Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite con l'ultimo episodio delle Gigi News di questa stagione 1 del capitolo 4. Oggi andremo a vedere tutto ciò che sappiamo della prossima stagione 2 del capitolo 4 di Fortnite. Prima di iniziare però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYTUTTOGRANDE, tutto attaccato. Anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo, grazie a vero di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi. Lasciando il bel mi piace per supportare i video di Fortnite, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, perché chiaramente con la prossima stagione, che inizierà domani tra l'altro, ma tra poco ci arriviamo, usciranno una marea di contenuti, quindi controllate di aver attivato anche la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video, mi raccomando. Ovviamente ragazzi non possiamo non andare alla nostra isoletta di fiducia in questa ultima GG News di questa stagione. Non credo che cambieranno talmente tanto la mappa da toglierci quell'isoletta lì, anche se però potrebbe essere così, eh. Quindi potrebbe anche essere il nostro addio alla nostra isoletta di fiducia, io ovviamente spero di no. Comunque il fatto che domani inizi la nuova stagione è stato annunciato da Fortnite, nel senso domani dalle 8 di mattina inizierà proprio la manutenzione per far uscire, tra virgolette, l'aggiornamento della prossima season. Quindi poi se tutto va come deve andare, domani stesso inizierà la stagione. Tra l'altro ragazzi io ovviamente sarò in live su Twitch, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire. In questi giorni ovviamente, soprattutto poi nel fine settimana, streamerò tantissimo, dato che appunto inizia la nuova stagione, quindi la giochiamo, la giochiamo e la giochiamo. Io credo che usciranno una marea di video, cioè se veramente c'è tanto contenuto da fare, mi metto anche qui a fare tre video al giorno per tutta la prossima settimana, quindi preparatevi. Ma adesso ci arriviamo con calma e vediamo tutto quanto. Allora, innanzitutto sì, hanno disattivato il martello l'altro giorno, quindi non è proprio una cosa fresca fresca, ma già sono un paio di giorni che hanno disattivato il martello. Da capire se rimarrà disattivato anche per la prossima stagione, oppure semplicemente è stato effettivamente un problema e quindi per la prossima stagione tornerà, non lo so. Voi fatemi sapere sotto nei commenti se vorreste il martello anche durante la prossima stagione, oppure no. E la cosa bella è che hanno disattivato anche lo slurp, il succo succoso. Io questo sinceramente mi aspettavo lo disattivassero prima, invece comunque è rimasto un bel po' di giorni, dobbiamo dire. Comunque, soliti spoiler dalle varie console, questa volta è toccata la Switch, questa qui sarà l'immagine promozionale, diciamo così, della Season. Season che dovrebbe chiamarsi Mega. E ci sarà anche proprio un punto di interesse che si chiamerà Mega City. Da vedere se effettivamente anche in italiano sarà Mega City o non lo so, vediamo, vediamo. E per la prima volta, perché andando a memoria non ricordo che Epic abbia mai fatto tutti sti spoiler giorni e giorni prima, Epic sta già facendo degli annunci sui suoi canali social delle prossime skin del Pass Battaglia. Ora, potrebbero anche aver scelto di fare una cosa del genere perché sono state licate. Infatti la GG News che è uscita qualche giorno fa era una GG News proprio intenta a farvi vedere tutti gli spoiler che erano usciti proprio sul Pass Battaglia. Perché solitamente, regà, le skin del Pass Battaglia sono proprio l'ultima cosa che viene licata prima dell'uscita effettiva dell'aggiornamento. E invece stavolta sono stati proprio loro con vari teaser. Vedete che per esempio sulla pagina Instagram hanno fatto anche lì l'effettuccio carino di creare le immagini con tutti i caricamenti vari sul profilo. E devo dire che è anche una cosa carina. Poi ovviamente se andate a vedere sui loro social ufficiali vi ritroverete anche tutto il resto. Perché poi ovviamente hanno spoilerato anche i vari picconi, i vari beggini e tante altre cose. Che però non vi sto qui a far vedere perché sono veramente 3 miliardi. Quindi potete andare tranquillamente sulle pagine di Epic, insomma, di Fortnite ufficiali e trovate tutto quanto. Se ve lo volete spoilerare, io anche per quello non ve le sto ammettendo perché poi magari qualcuno potrebbe anche preferire di non spoilerarsene. Tanto poi ovviamente faccio subito il video in cui scioppo tutto il pass battaglia. Ci mancherebbe altro. Quindi ecco, probabilmente proprio perché sono state già spoilerate e licate, hanno deciso di fare i teaser proprio proprio con le skin del pass battaglia. Comunque sì, regà, lo so che sta arrivando la safe, però volevo continuare a pescare un altro po'. Vabbè, mi tengo il me di nebbia dato che probabilmente dovrò curarmi parecchio. Questa poi tra l'altro è una delle schermate del pass battaglia. Quindi bene o male mi sembra che la grafica sia uguale a quella che abbiamo avuto durante questa stagione. Quindi nessun cambiamento da questo punto di vista, tutto abbastanza lineare. Poi c'è una notizia che in realtà è uscita già da qualche giorno, ma io la GG News la sto facendo solo oggi e quindi ve la riporto oggi, che Eren, che come abbiamo già visto sarà la skin finale del pass, questo però non è stato annunciato ufficialmente, questo fa sempre parte dei leak. Però Eren di Attack on Titan, che sarà la skin finale del pass, a quanto pare, a quanto hanno detto i leaker, non sarà l'Eren Yerga che abbiamo visto nelle ultime puntate, insomma, di Attack on Titan, quindi delle ultime stagioni quando è già cresciuto, ma probabilmente sarà quello delle stagioni a metà. Quindi ne proprio bambino bambino, ma neanche già grande, come lo stiamo vedendo nelle ultime puntate appunto. Io pure ci sono rimasto abbastanza male perché Eren, insomma, delle ultime stagioni è veramente figo, però vabbè, staremo a vedere. Anche perché poi ovviamente avrà vari stili, avrà anche altre skin, io spero che poi altre skin le faranno. Cioè, ragazzi, non mi possono non fare la skin di Levi, non possono non farmi la skin di Mikasa o di Armin, Cioè, almeno dei loro tre, oltre a Eren, ce devono stare, poi anche tanti altri personaggi, per carità, però almeno loro, dai. Tra l'altro sembra che uno degli stili di questo Eren sia proprio anche il gigante, vabbè, ovviamente, chiaramente ridotto, insomma, un po' come hanno fatto col deltaplano della Volpe a 9 Cote di Naruto, che in realtà la Volpe a 9 Cote, ovviamente, sarebbe gigantesca. L'hanno fatta un po' ridimensionata per farla a mo' di deltaplano, chiaramente anche col gigante di Eren potrebbero pensare di fare una skin. E a quel punto sarebbe figo avere le skin di tutti i giganti, e a questo punto mi chiedo se magari invece andranno a fare la skin di Zeke. Vabbè, staremo a vedere, queste sono tutte congetture mie. Tra l'altro dovrebbe esserci anche proprio il saluto, no, del corpo di ricerca di Attack on Titan. Quindi, insomma, cose fighe, però, diciamo la verità, la roba degli anime sono sempre molto fighe. Ho visto che molti di voi si sono lamentati, ah no, ma io voglio delle skin originali Fortnite, te le hanno sempre fatte fighe, adesso fanno solo collaborazioni. Sì, sono d'accordo anche io, più che altro secondo me... Ah, c'è uno che sta sparando a qualcun altro lì. Eh, però, aspetta, aspetta, aspettate un attimo, aspetta, questo mi sembra anche abbastanza aggressivo, però... Ah, perché c'ha la macchina, aspettate, vediamo se sale in macchina. Ma che mi ha visto? No, ok, non mi ha visto, non mi ha visto. Ok, meno male. Allora, dicevo, anch'io sono d'accordo, vorrei più personaggi originali Fortnite. Vorrei più che altro che gli venisse creato dell'hype intorno ai personaggi Fortnite. Un po' come fecero con Mida ai tempi, cioè, dopo Mida, ragazzi, pochi altri personaggi hanno creato lo scalpore che effettivamente ha generato lui. E qualche personaggio inerente alla trama lo vorrei un po' più figo, proprio avere il boss in mappa, figo, fatto bene, che poi l'evento finale spacca tutto. Cioè, cose di un certo tipo, secondo me le possono fare. Però, secondo me, ci sta tantissimo anche fare queste collaborazioni, ragazzi. Perché, a parte il fatto che mandano avanti il gioco, perché spero e penso che queste skin in collaborazione facciano una marea di vendite. Cioè, una marea di gente le shoppa. E mi raccomando, vi ricordo, usate il codice creatore GGY, non ti tutto grande, tutto attaccato per shoppare. Ma poi, perché comunque, è roba figa, secondo me. Deve essere quell'extra, però, secondo me, ci sta. Comunque, detto questo, per ora queste sono le cose che sappiamo. Sappiamo, ovviamente, anche tutta la roba del portale. Ne abbiamo parlato proprio nel video di ieri, delle sfide dei giurati. C'è stato, ovviamente, il varco che è stato distrutto. Non si sa bene chi è stato. Alcune teorie parlano di Amy. Dobbiamo ancora capire bene le intenzioni di questo uomo informe, che abbiamo capito essere stato, sostanzialmente, il padre adottivo, tra virgolette, di Stellan. E quindi dobbiamo capire tante cose. Molti mi continuano a chiedere dell'evento finale. Io, ragazzi, non so più in che lingua dirvelo. Non c'è. In questa stagione non ci sarà l'evento finale. Ce lo aspettiamo, quasi sicuramente, per la prossima. Ma in questa stagione non ci sarà l'evento finale. Molto banalmente, venerdì inizierà la manutenzione di mattina e poi, quando il gioco tornerà online, al massimo avremo una cinematica. Quindi, magari, uno di quei trailer fighi che solitamente fanno prima delle stagioni. Però non è un evento finale. È una cinematica buttata lì. Che spero, però, possa essere figa. Quindi, vediamo un pochettino quello che succede. Io ho un hype abbastanza moderato. Che però, proprio perché c'è la collaborazione con Attack on Titan, potrebbe di colpo salire. Dato che, comunque, con Naruto hanno fatto il kunai mitico, con Dragon Ball hanno fatto la nuvoletta e l'onda energetica. Con Attack on Titan faranno qualcosa, spero. Tra l'altro, vi ricordo che era stata anche spoilerata l'arma mitica del movimento tridimensionale del corpo di ricerca, proprio. E dovrebbe funzionare proprio come funzionava. Ma, regà, non ci credo. Cioè, regà, posso dire che ultimamente siamo veramente sfigati, però, eh. Cioè, ultimamente, nelle GG News sto prendendo delle pizze immeritate. Cioè, questo mi ha lasciato con 12 di vita dopo che io l'avevo lasciato one shot e sopravvissuto non so come. Dunque, stavo dicendo, dovrebbe esserci il movimento tridimensionale di Attack on Titan. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, su Fortnite sarà semplicemente un potere molto simile, se non proprio identico, al potere mitico di Spider-Man. Oppure, comunque, al guanto rampino di Indiana Jones. Quindi un qualcosa con cui tu ti appendi, tra virgolette, ti agganci e oscilli. E, secondo me, viene fuori una roba figa. Ma io spero che magari possano aggiungere anche altro oltre a questo. Però, vediamo, vediamo. Ribadisco, sono decisamente curioso di vedere che cosa tireranno fuori con l'attacco dei giganti, eh. Quindi, raga, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Io oggi anche cercherò di andare in live, non lo so, vedrò un attimo cosa fare in questi giorni. Farò, sicuramente, una marea di contenuti. Vi ribadisco, venerdì saremo sicuramente in live tutto il giorno, praticamente, fino a sera. Che, anche perché, insomma, inizia da venerdì mattina, quindi, giustamente, molti voi saranno a scuola o comunque al lavoro. E io, però, sarò già in live dalla mattina ad aspettare la patch. E poi usciranno tutti i video del caso su YouTube, sia il venerdì che il sabato che la domenica. E poi, appunto, saremo in live quasi tutto il fine settimana. Detto questo, io voglio prendere la frattura per pushare qualcuno, ma mi sa che se la stanno Bellica camperà. Potrebbe non essere stupido prendersi il potere di Deku, eh. Ecco, diciamo che il potere di Deku... Oh, qualcuno ha riftato lì. Il potere di Deku potrebbe essere quella cosa che magari alla lunga mi mancherà, perché pare che alla fine mancano, però è anche quel potere troppo devastante, ragazzi. Cioè, il potere di Deku è veramente troppo devastante. Però per l'ultimo video della stagione, perché probabilmente questo sarà l'ultimo game della stagione in video, per quanto riguarda il video, i video, insomma, a parte le GG News proprio in generale, direi che ci sta a prendere il potere di Deku. Poi magari adesso moriamo subito, eh, però proviamo. Allora, regà, sento passi qui. Io direi di fare una cosa del genere. Mamma mia, quanto godevo se killavo qualcuno. Oh, ho capito che ti sembra... No, stava fuori, pensavo fossi dentro! Ma come l'ho lisciato, regà. Ma come l'avevo lisciato? Regà, sono rimasto... Uno di vita! Uno di vita! Prima 12, ora uno. No, 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 no. Non è per me, vero? Mi sa che era per me. Sarebbe dovuto essere per me, ma mi ha lisciato. Eh, regà, allora mi curo con le cura bomba. Non ho... Non ho tempo di ragionare con altre cure, se non con questo scildone. E vi devo dire la verità, faccio anche una cosa del genere. E ricarico le armi, perché se no siamo messi male, eh. Siamo rimasti in tre, quindi occhio. Comunque si sente che non c'è il martello, eh. Si sente, le partite sono molto più tranquille. Anche se però non mi aspettavo che arrivassimo in così pochi in endgame. Cioè, senza martello mi aspettavo delle partite un po' più tranquille fino alla fine. Invece comunque sempre in tre, eh. No, regà, c'è qualcuno alla macchina qua. Te prego, non distrugge il cespuglio. Sta distruggendo un po' di cose. Io sto qui camperato, ragazzi, perché siamo anche nella prossima tempesta. Direi che va benissimo così. No, no, questo arriva dritto qua a distruggere il cespuglio. No, ok, ok, si sta rigirando. A me ci sta a far capire niente, non capisco perché sta a far così. C'ho una voglia di utilizzargli il potere di Deku che voi non avete idea. Regà, questo si è messo lì sopra il trattore. Cioè, ho ancora più voglia di utilizzargli il potere di Deku addosso. Il fatto è che lui adesso per entrare in safe deve passare qui. No, 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 che sta sparando al cespuglio. Che mi ha visto? No, a chi? Che ha visto? Alcuno? Oh, no, 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 no. Si sta vicino, aspetta. Eh, no, vedete se sta riprende... Se sta riprende la macchina, no? E' risceso? Che deve fare? No, no, ma... Ma mi vedeva? Ma non ho... Cioè, non ho capito, scusate. Non ho capito il gioco. Non ho capito... No, mi sta a sparare pure l'altro e vabbè, ma sempre io nel mezzo, ma non c'ho parole. Ma che mi vedeva nel cespuglio? Ah, no, che... Ah, no, ma che ero stato pingato? Ma non mi pare di essere stato pingato, regà. Vabbè. Niente, comunque, nel panino ovviamente ce dovevo finire io. Pure dentro il cespuglio finisco nel panino. Ragazzi, detto questo, vi ricordo ovviamente il codice creatore GGY, Sino, antitutto, grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. È fondamentale per supportarmi ogni due settimane il codice scato, quindi poi dovete reinserirlo. Lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Mi raccomando, ragazzola, è davvero fondamentale per supportarmi. E poi iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi contenuti. A parte tutti i video che usciranno, parlo ovviamente anche della live poi su Twitch, trovate il link in descrizione. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuali!